Mentre prosegue incessante il lavoro degli inquirenti per dare un nome all'assassino di Katia Dell'Omarino, da Civitavecchia è arrivato a Sansepolcro il sensitivo Mario Alocchi. Il suo è un contributo decisamente fuori dall'ordinario che certamente può lasciare perplessi. In passato si è occupato autonomamente di casi di cronaca molto famosi come quello di Sarascazzi indicando alcuni giorni dopo la scomparsa della ragazzina il possibile coinvolgimento di una giovane parente. Colpito dal brutale omicidio di Katia ha deciso di andare nei luoghi del ritrovamento del cadavere e pendolino alla mano traccia una possibile pista, tutta da verificare che vedrebbe implicata anche una donna. Dopo un attento studio sulla vicenda ho visto che doveva essere un incontro chiarificatore, chiarificato nel senso che lei doveva lasciar perdere la storia d'amore. Considerato che Katia non intendeva nessuna ragione al mondo lasciare perdere questa storia e allora lì è scattato il piano omicidiario. Secondo me sono due le persone, una moglie che voleva salvare il suo matrimonio. La donna, la moglie, secondo il mio studio avrebbe assodato qualcuno pagandolo, non un serial killer, ma una persona che avrebbe preso dei soldi per commettere questo diritto. Kindi potrebbe anche essere una persona non italiana, ecco perché ignoto uno, se non si trova alla donna però difficilmente se non si mette sotto torchio la donna, questa moglie, difficilmente si riesce a trovare ignoto uno. Presumo che la persona che abbia ucciso Katia abbia già ucciso in passato, però non è un serial killer. Io credo che lo faccia a notte, però se qualcuno gli chiede pagandolo, una persona senza scrupoli che non ci mette niente a ammazzare una persona.